Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 20 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Basta indagini, il sole se ne va. Se fino ad oggi pomeriggio il raggio impietoso del sole inariete insieme al vostro astro guida Venere e Mercurio vi ha indagati ben bene, oggi l'astro della luce se ne va, lasciandovi finalmente in pace. Chi vi controlla c'è già, soprattutto sul lavoro, con Marte e Saturno in sesta casa, la stacanovista. E lo stesso vale per chi alle prese coi soliti test di controllo oggi va a ritirare il referto, un filo di apprensione come sempre, poi sospiro di sollievo. Giornata non facile, a ribadirvelo la luna imbronciata in dodicesima casa, indizio di affaticamento e di tutte quelle piccole delusioni inflitte dalla vita senza un vero perché. Sul lavoro le solite beghe, sorprendentemente pareggiate da una situazione finanziaria tranquilla, almeno su questo fronte non avete grattacapi. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. Una persona a voi vicino farà di tutto per farvi ingelosire e troverà mille occasioni per attirare su di sé la vostra attenzione. Sicuro di voler concedere spazio a una persona che, nel passato, non vi ha trattato molto bene? Relazioni d'amore poco valide potranno terminare. Non essere polemico. Più pazienza. Evita di pretendere troppo da te stesso e dagli altri. In amore vince chi fugge recitava un famoso detto. E stavolta per capire quanto il partner tenga a voi meglio prendere per un po' le distanze. Oggi potreste essere a una svolta importante per la vostra vita se siete nati di domenica o martedì tra le 8 e le 12 del mattino. La vostra vita protrebbe davvero cambiare e subire una positiva ventata di energia. Sentirai il bisogno di sfogarti. Confidati con chi ti conosce bene. Cambierai spesso idee e umore. Riposo di più. Possibili tradimenti. Per ottenere buoni risultati mostrati più grintoso, più convinto. Non essere troppo critico. Momenti piacevoli in compagnia di amici. Alcune di voi oggi vivranno momenti davvero speciali e indimenticabili. Se non succede a voi non preoccupatevi. Oggi Giove sembra proteggervi in special modo e il successo, soprattutto in amore, è solo rinviato. Ascoltate di più chi vi sta accanto. Potrebbe avere bisogno dei vostri consigli. Primi segnali di un amore rinnovato, cercate di non strafare. Siate voi stessi, dimostratevi sempre all'altezza e intervenite al momento opportuno. A volte l'amore si serve di cose semplici. Giornata poco significativa per voi questo sabato, se contraddistinto da una gran sgobbata, basti pensare che i due pianeti più duri e impegnativi del Sistema Solare, Marte e Saturno, vi transitano in sesta casa, appunto la Stacanovista, osteggiati però dalla luna malmostosa, mentre Venere e Mercurio, innamoratissimi e strettamente congiunti in ariete all'opposizione, vi guardano con diffidenza, ricordandovi il primo comandamento non invadere e il secondo non giudicare. Qualcosa di interessante lo svela invece il settore finanziario dove oltre ai soliti giove generoso e urano imprevedibile dal pomeriggio si muove anche il sole che lascia la riete per passare in toro. Dunque smetterà di occuparsi di relazioni interpersonali per pensare solo agli investimenti. E allora se ve ne intendete di piazze azionarie co. rimboccativi le maniche, il vostro grande momento sta per arrivare. Amore ed Eros. L'amore c'è, lo sapete e per questo lo considerate un dato di fatto. Il partner però si aspetta da voi un corteggiamento più sottile, un gioco erotico che parte dallo sguardo per arrivare al dunque solo ore più tardi, urlato con tutta la sincerità del sole, lastro del cuore, che non ha segreti. Preoccupazione per una persona di famiglia che oggi dà segnali di malessere o per il quattro zampe, stranamente nervoso e poco comunicativo. Se non vi fa le feste consuete chiedetevi un po' perché, ha intercettato che domani sarà ospite dei nonni mentre voi ve lascialerete al mare o in campagna. Ecco perché ce l'ha con voi, si sente il grande escluso. Lavoro e denaro? Giornata pesantissima, ve lo si legge in faccia, anche perché il risultato di tutto questo impegno non si vede a parte ottimi affari, imbastiti con la solita diplomazia, in azienda non portate a casa risultati tangibili. In sintesi avete sgobbato tutt'oggi e sgobberete di nuovo tra lunedì e mercoledì prima del ponte che segna il liberi tutti e con ragione. La celebrazione del 25 aprile, ovvero della liberazione dal piedone fascista, non va accantonata come la carta del cioccolato. La resistenza è costata tante, troppe vite da ringraziare, senza di loro addio viaggi, concerti, minigonne, palestre, insomma la normalità delle nostre vite. Anche ai supermaratonetti marciare con le scarpe di cartone non sarebbe piaciuto. Benessere. Vocabolo da bandire dal lessico dierno almeno per quanto vi riguarda. Giù l'umore fino all'ambire l'onda della depressione, giù anche il fisico tra emicrania, infiammazioni, stati infiammatori e mal di schiena. Resta il mistero del vostro aspetto, splendido e curato, allo specchio si riflette una faccia serena e rilassata, sicuramente si tratta di una maschera speciale ma poiché non volete rivelarlo. Si potrà fingere che sia tutto nature. Dopotutto un'apparenza splendida vale pure qualche piccola, innocente bugia. Per lei, se con lui restava qualcosa in sospeso da chiarire ecco fatto, finalmente una volta sputato il rospo il cielo si sgombra dalle nuvole e tutto vi appare più sereno e sorridente, il weekend si apre con ottime prospettive. Per lui, troppo stanchi per incontrare gli amici stasera e ancor più per indossare i panni del cacciatore o fissare un appuntamento galante. Quando non si è in forma si parte già da perdenti. Colore delle emozioni, rosso mattone. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.